pronti ci riproviamo dove vai lei dove vai in bicicletta c'è uno che fa i numeri aspetta che il quad mio mio facciamo come i cani corriamo dietro ai moto veicoli dove qui c'è un complessino piccolo sono i rock gi sei spero che non ci sia nessuno di muso vai nella roulotte sa che è entrato qualcuno prima di noi o un pompa prega cazzo un pompa subito e io sto arrivando se abiti di spararmi quello non sei tu io sono nella roulotte dove cazzo sei andato già mi sparano puttana bastarda aia puttana troia ma non lo so sto scappando vieni a prendermi fai qualcosa dove sei puttana me sono in g7 e lo so anch'io sto io sto in f6 che stai fai in f6 sono fuggito malamente g6 in g6 g7 e sta lì a confine g7 vabbè sto andando verso il sud dove verso nord vediamo se ci incontriamo portami qualcosa perché sono nudo come un verme quante emozioni sto correndo attraverso i campi mezzi trasporto diretto a a merda quello di un mezzo un mezzo un sasso bene stiamo a scambiare le macchine con il sasso sparano non so a chi e da dove mi sono inzainato se trovo un'arma è anche meglio ma non trovo assolutamente nulla zero totale qui c'è qua niente ho un paio di scarpe che mi metterò uno zaino e le scarpe sono un campeggiatore adesso no non g7 adesso si sto qua in un cazzo di complesso ci sta container robe ah ok sono qui allora vieni a cercare robe ma stai entrando nelle roulotte stavo prima io hai già razziato tutto? eh ecco la torno lì fermati ho il casco ho il zainetto manco da niente oh mitra oh il passamontagna addirittura non posso prendere niente cazzo cazzo mi sembra non zaino ho trovato di nuovo la scaccia cani meno male arrivo con molta calma cioè sto arrivando a piedi correndo come un imbecille eh vieni qua che ti dirò c'ho una pistola che probabilmente vendono all'edicola macchina nemica dove? sentite arrivare è davvero una macchina nemica? sentivo rumori eh c'è uno c'è uno c'è uno c'è uno ma visto puttana dove sta? eh aia cazzo mi ha preso mi ha preso però mi ha ammazzato la mamma porca puttana l'ho ammazzato mai sei morto? eh niente praticamente no no mi ha ammazzato con la k figurati la per favore insieme serietà eh serietà attenzione mi metto qua per terra e buone maniere secondo lei calerà o non calerà lo smoky nelle grandi città? eh la lag mi posso rotolare? andiamo qui sotto in picchiata io ti seguo test c7 ho topato no mi ha topato perché fai cagate però eh capita 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 andiamo in quel complesso lì eh ma c'è già atterrato uno adesso quello si entra si arma e ci fa la festa appena entriamo noi avremo i nostri modi per se mi aspetti salvarci le ricognizioni Claudio non capisci quant'ansia c'è un mezzo immensabile zaino buono pistole buono e sto qua fuori sto arrivando lì c'è un altro forse non hai capito eh perché appena ti sbicca quell'altro ti fa la festa la sorpresa mitra qua sotto che ne sai sono io eh non mi sparare non shottarmi fermati eh ti troppo il mitra fermati no non voglio fa che palla ho usato i bandages un cretino ho preso lo zaino sopra no ho preso lo zaino sopra è imbecille qua non c'è assolutamente un cazzo a sinistra qua 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 prendi lo zaino ho preso ma siamo morti siamo? abbiamo una macchina siamo morti c'è là puttana ma quante macchine distrutte e non ne funziona una siamo armati di tutto punto possiamo morire armati ma andiamo devo andare noi in 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 f in g7 in g6 siamo in b7 totale ma no macchina mica tanto ma porca miseria però dimmi che sta jeep funziona ti prego ti prego ti prego dimmi di sì sì è una di quelle che funziona la vedo da qua funzia bella dai luti dopo andiamo via ti tengo la mappa tutto est cla est non prende le piante o gli alberi se no si fotte la macchina è finita vai vai a palla non sulle montagne però cla che si sfascia la macchina per favore siamo a 96 di volante a 96 di volante la benzina claudio mo sfasci la macchina perdi la benzina per favore claudio 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 la macchina la perdiamo cla la macchina è in fiamme va bene così sei un ritardo sei sei un impecille ma no sud est nord est io esco qui ciao oddio ci sparano ci sparano sono la morte fiammeggiante sto sanguinando porca miseria vai via qua tu sei arrivato eh ma mi hai lasciato mi sta spara uno sei morto mi sa che sono morto anch'io però che non sono arrivato da nessuna parte eh si sono morto boom ma ne ho ammazzato niente claudio però tu sei un cretino eh dai però non lo sapevo